Torna la vittoria la pergolettese dopo 5 pareggi. Lo fa al termine di una gara fatta di alti e bassi che hanno fatto storcere un po' il naso ai tifosi. Primo tempo in cui ha fatto meglio il Montichiari con 4 occasioni da rete, ma i gol li ha fatti il pergo con 2 punizioni, cinico come non mai quest'anno. Nel secondo tempo si rivede ancora una pergolettese sprecona in superiorità numerica che va in tilt dopo il gol del Montichiari concedendo campo e punizioni che potevano essere potenzialmente pericolose per un clamoroso pareggio. La gara inizia il piccolo trotto per i gialloblue e sono i bresciani ad andare vicino al gol subito al terzo con Caroccio che tira da posizione defilata ma montaperto para. Al diciassettesimo punizione dal limite per fallo su Manzoni e Rossi infila la palla all'incrocio dei pali per il vantaggio gialloblue. Al ventunesimo Bosio si libera bene di Urmi in aria e calcia a colpo sicuro, palla sulla traversa. Poco più avanti punizione di Villanovic, Anelli sfiora di testa e il pallone esce di pochissimo. Al trentaduesimo dopo una punizione mischia in aria della pergolettese che fa venire i brividi ai tifosi di casa. Nel finale di tempo il team di Venturato reagisce con alcuni contropiede e al quarantacinquesimo Lorenzi supera Roic lanciandosi a rete, il difensore lo ostacola fallosamente e Saia decide per il fallo dal limite e per il rosso al difensore. La punizione la calcia magistralmente San Giovanni che raddoppia. Nel secondo tempo il pergo cerca il terzo gol peraltro a ritmi blandi e lo sbaglia in diverse occasioni. Due tiri di Rossi al sesto e al tredicesimo, un tiro di Manzoni parato al sedicesimo, un colpo di testa di Ardini fuori al ventiduesimo, un palo di Manzoni con un secco tiro dal limite e ancora due tentativi fuori di Panepinto e Patrini. Al trentaduesimo però la difesa gialloblu si fa sorprendere dal taglio di Rusconi che servito da Bosio supera Montaperto e riapre la gara. Il pergo si smarrisce e lascia campo al Montichiari che conquista un corner e una pericolosa punizione dal limite spaventando i gialloblu. Nel recupero il pergo però riesce a sbagliare altre due clamorose palle gol con Ardini e Manzoni non riuscendo a chiudere la gara che finisce su un corner dei Bresciani che procura ancora qualche brivido ai locali. Termina 2 a 1, nel complesso una vittoria meritata ma al risultato poteva essere più rotondo e la gara andava chiusa con anticipo.